Mi ha fatto una bella carriera, ma non l'ha fatta giocando su quello che era stato. Anzi, vi posso anche raccontare, visto che siamo a Genova, una cosa che mi disse quando mai era anziano e malato, e proprio era in restrettezze finanziarie, quindi curarsi aveva qualche difficoltà. E un giorno mi disse, non sono stato tanto furbo, ma perché quando ero a Genova, l'onorevole Taviani, che evidentemente lui conosceva bene per ragioni anche di lavoro, mi chiese che cosa avevo fatto io sotto la guerra, e io gli ho raccontato quello che avevo fatto. E Taviani rimase talmente colpito, che mi disse, beh io le faccio a me per la festa della partigiana, perché lei è stato un partigiano a tutti gli effetti, e mio padre gli rispose no, io ho fatto il mio dovere di servitore dello Stato, e non volle questa tessera. E poi da vecchio si va bene e dice, forse se la prendevo, avrei avuto una persona un po' più alta.